Grazie per la nostra performance arriva, se non era facile arrivare non i su 10, ho capito anche come evitare che gli avversari che mi come back in un game come lei ci ha mostrato con gli ok, ah no, grazie dottor fraca, e grazie ogni volta per caricare il magister pre-game presso lo Q, ah ora c'ho la mental giusta per entrare in game, te l'assicuro fraca che adesso c'ho il mental giusto per entrare in game. Eeeh, costa 4 e 8, Tam? Meno male che ci siete voi ragazzi, per fortuna! Prendete il cazzo, mostri del void, costa meno Tankange, vostra sorella costa meno, ma sei appena nerfato? Ho fatto lo Shirelia, oi no, cosa vai a baffare l'altro? E na, oi, cosa cazzo vai a baffare l'altro? Oh no, oi! Hanno avuto successo aumentando le opzioni mitiche per gli incandatori, ma la seconda era la stata più potente della prima, ho capito, ma la prima era potente, cioè non è che quest'item qua faceva cagare, eh? Cioè vedete, vedete come ragiona Riot Games? Lo Shirelia era più forte della pietra di luna, quindi abbiamo deciso di nerfare lo Shirelia, ok? E di baffare pietra di luna, ma se... Allora ragazzi, se una roba è broken e l'altra è bilanciata, se tu nerfi l'altra non vai a baffare pure quell'altra, l'altra la lasci uguale! Non me la vai a render broken, che poi ti ha due patch, vi rendete conto che è rotta in culo e me l'andrate a nerfare! E na, oi! La pietra di luna era già rotta! E na, oi! C'è un amico fastidioso? Sì! Questo c'è sempre nel team avversario, quindi questo lo buildiamo come primo item, giusto? Questo è il concetto, se c'è uno forte nell'altra squadra buildatelo, ce l'ho, perfetto, buildato! Abilità attiva, scegli una Nemesis per cominciare ad accumulare una vendetta nel co... Agitata globale, deve essere usata fuori dal combattimento e può essere usata da morti! Che cazzo me ne frega, oi, no, no! Allora, il 30% è rotto! 30% è la roba, la tenacità, la tenace, tenace, non me ne frega un cazzo! 30% è rotto! Io non dimentico, sempre con lei! Vabbè, vedremo, a spacca schiaffo! Mentre non ci sono campioni alleati, ottieni 20 con la città di l'alistenza magica, infliggi i danni aumentati, hai 20% contro i torri, inoltre i minion grandi e le vicinanze ottengono... Cos'è il banner of commander? Ve lo ricordate il banner of commander, ragazzi? Cazzo è sta roba? Ma è rotto sta roba qua, ragazzi? Trihardt totale! Yo, Vayne, super secret! Yo, Carthus, come te stai guardando? Yo! Il suo supporto è turcico, ok? Vedi cosa significa, certo? L'abbiamo! Vabbiamo! Vabbiamo vabbiamo! Vabbiamo! Bene! O altrimenti, ti uccidere nel gioco! Direi che non siamo più a livello! Ho troppo! Ho trollato! Me ne ha coi! Me ne ha coi! L'ho scammato! L'ho scammato! L'ho scammato! Oito, crof! Oito, crof! Ho scammato! Oito, crof! L'ho scammato! Oito, crof! L'ho scammato! Oito, crof! E oito, crof! Scammed, you! Scammed, you! I fucking inted! E na... Oito! Se devo facesse una roba un po' più storta! Oito, crof! Oito, crof! Oito, crof! Oito, crof! Sì! Sì! Buono, buono, buono! Buono, 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 buono ragazzi! Senza cuffie! Let's fucking go! We are shining like the star we have! Neymar abbandoniamo la Francia oppure no! Cazzo, le ne frega dei soldi! Io ho veramente i calciatori che vanno lì per prendere sempre più soldi! Ma che cazzo... Ma che cazzo me ne frega! Se vuoi prendere i soldi vai a fine carriera in Cina un anno, negli Stati Uniti un anno e vaffanculo! Che cazzo vai in Francia a giocare che ci sono i minion nel campionato! E na... Vieni in Italia, vieni in Inghilterra, vieni dove cazzo... In Spagna, vabbè, se in Spagna va bene. Ma non andare in Francia! E perdi pure, Godo! E perdi pure, Godo il doppio! Dal Lille! Una squadra che ha tre L in cinque lettere! Oito, no! Caccai il... Dai! E' la coicciaco! Triangolo delle Brand Muda! E si vola! Mamma mia, esplode! Sì che esplode! Un'altra! Sì che esplode! Mamma mia! Quando parte il triangolo delle Brand Muda parte il... Oh no! Poi, sciacca, ti vengo a prendere a casa! E na... Oh, che champion di merda, oh! Andiamo ad andare in base. Tu e tutti quelli sciacca player di Scustosian Skillet. Non voglio lasciare il secondo dragon, lo voglio. Vediamo se Kane è della mia stessa opinione. Ne ho bisogno, non voglio dargli win condition, non ne ho voglia. Ragazzi, abbiamo vinto il game. Abbiamo Kyle all'undici, 4-1. Basta non trollare ed è GG. Eeeh, nah, coi. Eeeh, nah, coi. Bravo, coi. Tutti gli sciacca player del mondo. SPARAPOOOOO! V'AFFANCULO! Mena, coi. V'AFFANCULO la can... Oh, gravo, coi. In testa è fattibile. Noi, no, no. Dai, Logitech! What can I say? Unranked to master. Due settimane e mezza. Unranked to master. Magister, ma come hai fatto a rimanere stuck ed otto mesi a demon 4? Voi ditemelo voi come ho fatto. Oh! Mamma, le solo kill. Mamma, le solo kill. Si comincia alla grande. Si comincia alla grande, ragazzi. Domenio assoluto totale. Si ritorna a ballare il Flamingo. Tre giorni senza stop in solo kill. Ma il maestro è tornato, ragazzi. The Magister is fucking back. Perché? Perché c'è Evelyn? No. Perché Evelyn è qua. Quello è il concetto, giusto? Questo è il concetto di quell'Evelyn. Mamma mia. No, no, no. Di cosa stiamo dicendo? Di cosa stiamo dicendo? Di cosa stiamo dicendo? Di knowledge himself. Di knowledge himself. Non ho più parole. Mamma mia. Oh, no, 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 no. Lo synapse. The best player in the server. Oh, no, no. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Limebot! Limebot italiano! Non mi serve vedere un cazzo. Lo so e basta. I just know it. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Il doppio del danno del nostro mid laner. Il doppio. Imagine win a game without jungler and mid laner. Because I literally 1v9. And outplay every single player on opponent team. Pointless farm on Ezreal, guys. Inting science level 1. Recording on stream. Dai, ba... Ma no, dammi. Vabbè. Aspetta un po'. Ma che pezzo di merda! Guarda che roba! Ma punite quelle in Riot! Keep punishing the people that flame people like this! Continuate a bannare quelli che flammano queste persone, sai! Non bannate quelle persone lì! Tranquilli, ragazzi. So io come killare una Gwen. Basta avanzare in modo sinuoso. Premendo R. Facendo la rimbalza... Facendo... Camminando in avanti. Cercando di hitare le spell. Per poi concluderle con... Un over cheer sotto la seconda torre del Nexus. E morendo per mano di Zed. E non killa... E killando Zed! 1v1! Play calcolata del Magister! Con il raccolto oscuro adesso sta vicarriando. E' una... Poi... Rasta gente. Il raccolto oscuro. Aido, però... Il raccolto oscuro. Il raccolto oscuro. E' una... Poi... Fate qual... Madonna mia! Ma quante spell devo hitare? Sti qua... Gioca nuova cosa! Dio, tu vuoi la pink? Dannato quel giorno che non ho messo il preservativo con tua madre. Oh no! Inclira la pink! Mostro! Ora fare ragazzi! Si può ancora fare! Dobbiamo seguire l'istinto adesso! Cosa farebbe Paolo? Cavallo F6? Qua ora!